E' una manovra, l'unica manovra in nasa è con uscita a destra invece che a sinistra. Prego. Siete pronti? Via, tutto piede destro. E lo rilascio, fambi così, a posto. Continuo a rotare, inizia la spinta, cambio del piede. E' di nuovo l'unica manovra, vista giù a destra. 10. E' di nuovo l'unica manovra, vista giù a destra. Noi attendiamo per effettuare la sniper negativa, meno 3G, con inclinazione a destra, in tazzo per mantenere il volo livellato. 2,9, 2,30. L'ho rallentato, un filo freni, via. In uscita della sniper negativa, andremo per l'ingrocio, meraviglioso. 280 nodi. Quindi così, 4, 5, avanti, via, a rombo, via. Rivediamo, stiamo, si mi ha l'ingresso, bianchi e colorati, o via, giù a destra e spingiamo. Spendiamo su, vediamo la maschera, come si piega, meno 3G, via, bianchi e colorati, o via, giù a sinistra. La formazione di fronte a me, ore 11, vado giù. La formazione di fronte a me, a sinistra, a circa mezzo miglio. Siamo qui, lo ritorno, vado su e a sinistra. Rappezio, via, via di fronte, via, colorati, via. 3,40, 3,9, 2, andiamo su. Io di fronte a me, ora, stanno andando su. Sono prossimi a 60 gradi di pitch. Allora, via, bianchi, ora, via e colorati, ora, in serie, rilascio il tuo. 70 gradi, musolo. Tutto motore, bianchi e colorati, via, ci allineiamo dietro il bandirone. Pronti, per l'apertura, via. Andiamo su. 1, sostengo. Abbiamo appena incrociato nei fumi, ora. Stanno e perdo, ora. Al minimo, però freno fuori. Attendiamo. Stengo. E poi chiudiamo l'ubile per ordinare con la scampanata. 220 nodi per la scampanata. Via, bianchi, ora. Provano appena incrociato, abbiamo 320 nodi, freni dentro, bianchi colorati, via. E andiamo su. Allineati con la pista, via. Freno dentro. Sento, atto dietro, via. Alla prossima alla verticale, la velocità del delivolo è prossima allo zero, il motore è al minimo. Bianchi colorati, scampanata leggermente ruotata. Penso il codorepo. Vedo il resto della formazione. Sento. Sento. Passiamo dietro al looping del rombetto. Lo looping del bussare del rombetto, ci riposizioniamo per il grasso dell'oncio. Rirrogo. Vediamo su. Vediamo che verso di me. E a destra ora. Sento. 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 La sezione davanti ha quasi completato il tonno. Sentirete il suo ritutti a vedere. Poi tutti e a prestata. Noi lasciamo sul nostro punto di riprendimento. presentarci a circa 30 gradi con l'assepista. 300. Quattro da noi. Sento fuori. Ed effettuiamo il launchback. Andremo su. Due giri in piedi. E tutto. 9.8. Ed adesso tutta a bar avanti. Andiamo su con i bianchi colorati. 6. Dentro. 5 secondi. In piedi. Un giro. Due giri. Un giro di destra. Davanti a sinistra. Un giro di destra. Un giro di 300 Udine. Una. E fermo. Stiamo approssimando ingresso in vita. Lo rilascio qui. Effetteremo due giri oggi. Uno. Due. Tutto motore. Viene bianchi colorati. Rimettiamo dalla vite. Il vento è una componente da Udine e da sud. E viene appunto ad aprire un centinaio a Udine. Uno. Qui. L'ho ripreso. E andiamo giù piano a sinistra. Trapeggio. Via. Linea di fronte. Via. Ditti così. 3.25. 2.9.0. Andiamo a rinforciare la bomba. Una pintura della bomba. Prossima al doppio. Interni. Via. Esterni. Via. L'formazione ha completato il doppio tonno. Noi attendiamo. Sentirete le chiamate della trasformazione. Via. E andiamo su. A piramidone. Via. A piramidone. Autore. La piedi a spalle. Via. Rilascio. L'uomo. La formazione è in fronte. 5. Pronto. Eccate a posto. Prossima. Via. Sono prossima all'apertura della bomba. Pronti per l'apertura. Via. 3.5. E noi. 5. Infiliamo all'interno dell'apertura con le bianche colorate. Per stata 3.40. Meno 5. 4. 3. 2. 1. Andiamo su. Stiamo decelerando per effetto arretto. Le due sezioni stanno ormai ricongiungendo, e noi siamo pronti a entrare con il tonno sinistro, luping con il carrello esteso seguito dalla John Derry in uscita, bombi bianchi, via, iniziamo il tonno, e dove andiamo? Su, continuo giù, a sinistra, si è perfetto, compiato a posto, 300, è la quota, entriamo con l'armale con i feri, usciamo con la John Derry a destra, 250 gradi di rotazione, e adesso ci siamo riusciti, freni fuori, via, ora andiamo giù piano, la Snyder, i freni fuori, la malavocca vi permette di vedere qual è la distanza che mantengono i redivoli, che è di circa 2 metri, 2 metri e mezzo.